In questo video ragazzi faremo il test del vulcano Cranky Cactus, questo vulcano commercializzato in Italia da fochi e festa ma importato da Leslie, c'è il logo da qualche parte, non so bene dove, molto bella, molto bella la grafica, veramente super curato, l'esplosivo netto contenuto è di 30 grammi, lo vedete laggiù ragazzi, 30 grammi per questo vulcano, veramente molto molto bello E anche qua abbiamo i dati tecnici, che figata, sotto il capo protettivo della micia, altra figata, diametro massimo 13 mm, durata 22 secondi, massa attiva 30 grammi, altezza effetto 3 metri, che figata, non è trovare i dati tecnici sulla fontana, ah che li troviamo anche qua giù fra il resto, 22 secondi durata, 1-3 metri la larghezza dell'effetto Non so voi ragazzi ma a me fa impazzire trovare i dati tecnici che solitamente si trovano solo sulle batterie, anche sulle fontane, ma adesso andiamo a vederle in azione Sei gasato di sparare di nuovo Abbiamo questo primo tonetto, fochi e festa, Leslie in realtà Bella qualità direi Bello, bello incazzato, fochino, dicci un po' come ti è parso Come ti è parso Prossimo giro, prossimo giro, ci pensa su, ci fa sapere